Grazie. Nei prossimi anni di valorizzazione dei siti architettonici e artistici della città, sempre per valorizzare questo rapporto che ACEDA oltre 110 anni ha con la città, partendo dall'elettrificazione della stessa, la gestione, come tutti sanno, degli acquedotti e delle fonti idriche. È un bellissimo intervento, più di 200 punti luce che valorizzano questo importantissimo monumento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.